Infine è il momento di Radiofermo 1, ma nello studio della nostra Laura Pasquali stanno succedendo cose strane. Abbiamo bisogno di amicizia, abbiamo bisogno di serenità, abbiamo bisogno soprattutto di speranza. Beh, buon Natale a tutti, il bambino che nasce è un segno di speranza. Buon Natale sincero alle nostre famiglie, ai nostri amici, ai nostri colleghi di lavoro. Ci ricordiamo degli auguri a chi anche di solito ci dimentichiamo, agli ultimi, ai dimenticati. E soprattutto è un augurio anche agli amici astraliali, ai tutti i giovani che ho conosciuto la giornata mondiale della gioventù a Silvio. Buon Natale a tutti voi. A tutti quelli che Natale lo aspettano fin da Ferragosto. Eppure a tutti quelli che ogni anno dicono no, Natale no, perché è arrivato Natale. Alle mamme, alle nonne che ci fanno sempre dei regali che sono coperte e calde d'amore. Ai papà, ai nonni, ai bambini, ai credenti, ai dubbiosi, ai debosciati, insomma, a tutti, 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 buon Natale e buone feste. Il mio augurio è affinché sia davvero un buon Natale per tutti, un Natale di serenità e un Natale di speranza, perché ora più che mai ce n'è davvero tanto bisogno. Ed ora è il mio turno, anch'io faccio gli auguri a tutti i telespettatori di Terra di Marche, di TV Centro Marche, di buon Natale e di un felice anno nuovo, che sia un anno di forza e soprattutto di speranza. Uh, sono finalmente riuscita a riprendere il mio posto, ma non c'è più tempo, quindi vi dico solamente che la canzone che stiamo per ascoltare è un classico natalizio, Sleigh Ride, nell'interpretazione di Kitty Tunstall. Ci vediamo dopo le feste, buon Natale e felice 2009. Ciao! 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 Ciao!